Siamo a Roma, officine della Farneto, una serata molto bella ma soprattutto con grandi motivazioni. Siamo nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne e Ius Gustando ha deciso di titolare una serata Cuciniamo in Rosso. Avvocato, che cosa significa? Questa giornata così importante che ormai in Italia festeggiamo dal 2005, ricalcando un po' le altre nazioni europee che si sono mosse un po' prima di noi, abbiamo scelto quest'anno di affrontare questa tematica così seria e importante con un po' di leggerezza. Per amore e solo per amore il nostro menù è rosso, i coltelli usiamo in cucina, sulla violenza alle donne continuamente ogni giorno, non solo trasmissioni che si occupano di cronaca ma giudiziaria, di cronaca nera affrontano la problematica. Quindi questa sera noi volevamo dare un contributo per alleggerire la tematica, non per sminuire l'importanza della tematica. La violenza esiste, è condannabile, è punibile, va denunciata, è necessario il sostegno di tante donne per aiutare molte donne ad uscire dalla violenza, a capire il perché si subisce violenza e si desiste nel denunciare subito la violenza, nel perché spesso questa violenza viene testimoniata anche davanti ai figli e quindi non vengono preservati i bambini, però credo che sia necessario testimoniare anche di storie positive, di storie d'amore. L'unico antidoto contro la violenza rimane ancora l'amore. Quindi la fiducia, l'idea che esistano delle famiglie in dove la violenza o viene affrontata o comunque non esiste, non c'è. Quindi raccontiamocelo, diciamocelo, leggiamo libri d'amore, non leggiamo soltanto libri di amore criminale, ma leggiamo anche storie positive, facciamo incontri anche positivi, diciamo che siamo qui un numero notevole e cospicuo di donne e di uomini che normalmente affrontano anche diversi tipi di violenza. La violenza non è solo quella che conduce qualcuno all'omicidio, ci sono violenze diverse, purtroppo ci scandalizziamo solo della parte finale della violenza, quella più conclamata, che è quella alla morte di una persona, ma la violenza può essere nelle parole, nei gesti o nell'assenza, anche l'omissione è un reato dannoso, colpevole, forse anche e soprattutto nei rapporti sentimentali, ciò che si omette o che non si fa ha più rilevanza di ciò che viene fatto, di ciò che viene detto e questo in quasi tutte le relazioni, per cui abbiamo voluto creare questa serata per testimoniare il nostro impegno di giuristi, qui stasera siamo un sacco di professionisti, avvocati, magistrati, che affrontiamo questa tematica nelle aule giudiziarie, l'affrontiamo però anche nella vita quotidiana, con questa prospettiva anche di raccontarci le cose positive, gustando a parte questa idea di cucinare in rosso, di usare i coltelli solo in cucina, propone oggi anche un progetto di ascolto, ius ascolto, quindi questa possibilità di offrire a tante donne anche gratuitamente, perché poi c'è un dato innegabile, la maggior parte delle donne che subiscono e accettano la violenza sono donne che non sono economicamente indipendenti o che non sono economicamente più forti del partner di cui subiscono la violenza, per cui questo dato economico, materiale, è poi quello che oggigiorno in questo contesto storico è quello che maggiormente avvilisce la gente in qualsiasi contesto, infatti la maggior parte anche e soprattutto dei delitti in cui abbiamo visto anche donne che uccidono i propri figli, si arriva a questa disperazione per la crisi economica anche in cui si versa. Un dato sicuramente da tenere presente, il calendario a che cosa serve? Il calendario, io scusando quest'anno ovviamente ci avviciniamo al 2015, siamo all'anno dell'Expo, è l'anno di questo bellissimo concetto nutrire il pianeta, nutriamo anche noi stessi, nel senso nutriamoci di belle cose, non soltanto di buon cibo, quindi le belle cose sono anche la solidarietà che esiste, non c'è soltanto un dato negativo sulla solidarietà femminile ma c'è anche un dato positivo, la maggior parte delle associazioni più impegnate sono gestite e condotte da donne che riescono ad ottenere maggiori riscontri proprio per l'empatia, per la forza che le donne riescono a mettere nelle cose. Il calendario vuole essere quello del mese di novembre 2015, ovviamente sarà dedicato a questa tematica, quindi sarà un calendario contro la violenza, verranno pubblicate le foto di questa serata, cioè piuttosto che uccidere, cuciniamo, diamoci amore, a volte gli uomini si prendono anche per la gola, non solo le donne possono essere accoltellate afferrate per la gola, quindi anche per noi, perché poi la violenza non è soltanto di chi la subisce, cioè secondo me il ruolo vittima carnefice è un ruolo in cui le due persone si alternano, non si è mai soli carnefici, non si è mai soli vittime, c'è un'alternanza soprattutto nei rapporti di coppia e così, quindi diciamolo che questa cosa, anche perché come avvocato mi dispiace anche che non venga mai affrontata la problematica da parte del colpevole, cioè che cosa si fa alla società poi nei confronti del colpevole? L'uomo che è violenta, l'uomo che uccide, va poi, è aiutato, viene aiutato? Parliamo sempre e semplicemente della vittima, ma anche quella è un'altra vittima, e quindi noi avvocati difendiamo anche i colpevoli, questo è giusto, è giusto garantire la giusta difesa, la giusta condanna è già un ottimo risultato per chi si ritrova ad essere un colpevole, però poi c'è anche la parte del reinserimento, della riabilitazione sociale di cui non si parla mai, le pene che le persone comunque, parliamo spesso delle persone che vengono scarcerate, ci sono tantissime persone che invece il carcere lo fanno, lo affrontano, e di queste persone noi spesso li dimentichiamo, ecco, uno sconto di pena invisibile per citare qualcuno che di questa tematica ha parlato più diffusamente. Mi piace ricordare che le donne questa sera indossano simbolicamente tutto il colore rosso, questa è una cosa fondamentale, quindi io voglio continuare come Libri.tv la nostra carrellata su questi volti femminili che questa sera hanno deciso di metterci veramente la faccia.